Surrounded Islands, isole circondate, che ha avuto come teatro la baia di Miami in Florida, è stato il progetto più mastodontico realizzato da Cristo e Jean-Claude. 11 isole artificiali sono state circondate da un totale di 603.850 m2 di tessuto in polipropilene di colore rosa. L'operazione condotta in questo caso non è stata quella solita dell'impacchettamento, bensì di incorniciatura di elementi naturali, con strumenti artificiali, sancendo una inedita unione tra i due aspetti. La scelta del colore pur nella sua accensione cromatica, si poneva in armonioso dialogo con il verde dominante della vegetazione delle isole e delle acque poco profonde della baia, e con l'azzurro del cielo. Cristo e Jean-Claude, hanno sempre operato prestando la massima attenzione all'impatto ambientale dei loro interventi, utilizzando materiali ecologici, e riciclandoli totalmente dopo l'uso.